Milano, 16 aprile 2018. Sky Italia sarà presente all'edizione 2018 della Milano Design Week, 17-22 aprile 2018, con numerosi appuntamenti, due location d'eccezione e un tram Sky in giro per la città utilizzabile gratuitamente da tutti. Sarà una vera e propria cancelletto Schick Experience quella che Sky propone a base Milano, via Bergognone, 34, lì sarà visitabile la casa Sky Q, uno spazio accogliente e immersivo, ideato da Sky Italia e curato da Peter Bottazzi, architetto, progettista e scenografo. Si tratta di una casa senza barriere, all'interno della quale i programmi Sky accendono le stanze e danno loro vita. Un'esperienza visiva in cui fermarsi, sorprendersi e ammirare l'interpretazione di uno spazio fluido, sintesi perfetta di un nuovo modo di godersi la casa con Sky Q, l'ultima innovazione tecnologica di Sky. La tecnologia che Sky ha sviluppato tende a scardinare l'immobilità, a resettare il cosa è stato fino a qui, ha commentato l'artista Peter Bottazzi. Possiamo svincolarci da un mobile e una stanza preposti ad una data funzione, perché abbiamo noi ora la possibilità di sconfinare e riconfigurare la vita domestica. Non solo fluidificando percorsi, approcci e visioni, ma soprattutto la condivisione. Buona visione a tutti. Qui è ora. Per tutta la settimana della Design Week, inoltre, un tram Sky Q completamente allestito come una casa, girerà per la città ospitando gratuitamente cittadini, visitatori e turisti per far vivere loro tutta l'innovazione di Sky Q e l'intrattenimento di Sky. Le corse partono e arrivano in P. Zafontana, confermate previste a Piazzale Cadorna MM1-MM2, Corso Sempione Arco della Pace, Garibaldi FS, MM2-MM5, Repubblica, MM3, Cairole Castello, MM1, Ponte Vetero, Via Torino a Eng. Via Palla, Porta Genova FS, MM2, e P. Zafontana 24 maggio. Numerosi gli appuntamenti convolti noti del mondo Sky che visiteranno l'esposizione di base, giovedì 19 aprile alle 12 il re della pasticceria italiana ed internazionale, Iginio Massari, in onda dal 21 aprile alle 19.10 su Sky 1 Conte Whitman, Celebrities, presenterà il suo speciale Dolce Q, realizzato in onore di Sky Q con un'allieva d'eccezione, Federica Masolin, il volto della Formula 1 marchio registrato di Sky Sport, sempre giovedì 19 aprile, alle 18.30, a base il vice direttore di Sky TG24 Riccardo Bocca anche conduttore di Ashtad 24, l'attualità condivisa, in onda ogni mercoledì alle 21 su Sky TG24, dialogherà con Selvaggia Lucarelli, opinionista influencer, sul tema social dal passato al futuro prossimo. Venerdì 20 aprile alle 18.30 spazio alla musica con il concerto acustico della Joe Bastianich Project Band, con cui il giudice di Masterchef Italia porterà sul palco un repertorio di canzoni originali, scritte e arrangiate da lui stesso, che rappresentano la sua vita e i suoi ricordi, un viaggio dentro molti stili che hanno segnato la crescita musicale di Joe, dal country al folk fino a toccare il rock americano. Infine, domenica 22 aprile alle 17.00 Lodovica Comello, nota al grande pubblico per la conduzione di programmi di successo come Italia's Got Talent, visiterà casa Sky Q e incontrerà i suoi fan insieme ai Teatribù, la compagnia milanese d'improvvisazione teatrale che si è messa in luce proprio a IGTE che ha ricevuto l'ambrogino d'oro lo scorso dicembre. Inserita del programma Sky della Milano Design Week anche l'esposizione pubblica dei progetti dell'iniziativa dall'albero del design, sostenuta da Sky Accademie Politecnico di Milano, Dipartimento di Design, per il riutilizzo del legno dell'albero di Natale Sky di Piazza Duomo al fine di realizzare prototipi di arredi urbani innovativi.mercoledì 18 aprile, a ingresso libero dalle 12 alle 22, nel Teatro Agora della Triennale di Milano, Viale Alemagna, 6. Sarà possibile ammirare i 23 progetti dei 70 studenti del Politecnico di Milano, compreso quello che sarà effettivamente realizzato e posto, entro il prossimo mese di giugno, nella piazza antistante la sede milanese di Sky in zona Rogoredo, Santa Giulia. L'attività, fortemente voluta da Sky, ha come obiettivo comune quello di sviluppare la cultura dell'innovazione e della sostenibilità, nonché il sostegno al talento dei giovani e la creatività. Cos'è SkyQ? SkyQ è la piattaforma tecnologica di Sky che trasforma la casa in un ambiente perfettamente integrato su tutti gli schermi, TV, smartphone o tablet. SkyQ crea un ambiente di visione uniforme e nella home di SkyQ, semplice e intuitiva, si possono trovare tanti programmi per l'intrattenimento di tutta la famiglia. Inoltre, in qualsiasi momento è possibile interrompere la visione su uno schermo e proseguirla su un altro, dal momento esatto della pausa. Tutto è possibile grazie a SkyQ Platinum che comunica in modalità Whirls con gli altri televisori della casa grazie a SkyQ Mini e, attraverso la nuova app SkyGo per i clienti SkyQ, anche con tablet e smartphone, portando così in tutta la casa la stessa esperienza di visione dell'attivo principale. E sempre grazie all'app SkyGo per i clienti SkyQ è possibile portare il meglio dei programmi Sky ovunque, anche dove la connessione Internet non arriva. SkyQ ha aperto anche la strada a una serie di servizi e funzionalità che esalteranno e faranno evolvere ulteriormente l'esperienza di visione. A marzo è stato lanciato il 4K HDR, High Dynamic Range, il più evoluto standard di definizione. Nei prossimi mesi arriveranno anche SkyQ Black, Sky Sunbox, per un'esperienza audio potente ed immersiva, e il Voice Control, per interagire collativo semplicemente con la voce. Grazie alla piattaforma SkyQ, inoltre, dal prossimo anno sarà anche possibile avere accesso diretto a Netflix.